Allora ragazzi, abbiamo visto ieri, abbiamo introdotto questo concetto di array, abbiamo capito che l'array ci consente di rappresentare un aggregato di variabili tutte dello stesso tipo, abbiamo visto che la caratteristica fondamentale è che questi elementi vengono memorizzati in memoria in posizioni contigue e questo ci permette facilmente, sapendo l'indirizzo di memoria dove comincia questo blocco e sapendo quanto è grande ogni singolo elemento, di ritrovare in modo molto semplice l'indirizzo di ciascuno degli elementi dell'array, quindi in pratica io posso avere a disposizione uno strumento per chiamare le variabili, delle variabili con indice, quindi posso indicare il generico elemento ad i e al variare dell'indice i posso accedere a elementi diversi del mio vettore, quindi abbiamo capito che se per esempio ha tolto un ciclo, al variare dell'indice i io posso ripetere le stesse operazioni ma su variabili ogni volta diverse, perché variando l'indice i cambia l'indirizzo di memoria al quale accedo. Abbiamo anche visto, e questa è l'ultima cosa che abbiamo visto ieri, che quando voglio passare un array ad una funzione, in maniera molto semplice piuttosto che passare l'intero array, passo semplicemente l'informazione relativa all'indirizzo di memoria dove comincia l'array. Nel caso di array monodimensionali questo è tutto ciò di cui ha bisogno la funzione per poter mettere le mani sulle variabili contenute, sui dati contenuti in questo array. Poi abbiamo anche visto che è buona norma passare anche la dimensione effettiva dell'array, cioè io ti dico questa struttura dati comincia a questo indirizzo e contiene 100 elementi, così all'interno della funzione io posso anche controllare che l'accesso agli elementi dell'array avvenga in maniera corretta, cioè non vado al di là degli elementi contenuti nell'array, quindi non rischio di accedere a posizioni di memoria diverse. Ricordatevi sempre che la funzione attraverso il nome dell'array e l'indice calca un indirizzo e va in memoria e non c'è nessun controllo sul fatto che questo indirizzo sia corretto oppure no, per cui se avete sbagliato a dare l'indice, cioè date un valore che è esterno all'intervallo dell'array, andate in memoria quell'indirizzo e gli effetti possono essere difficilmente controllabili. Allora, detto questo, adesso vediamo l'altra struttura a cui abbiamo fatto cenno la volta scorsa che ci permette di aggregare insieme dati di tipo eterogeneo. Questa struttura dati viene chiamata nel linguaggio C++ struct e si dichiara in questo modo, vedete? C'è la parola riservata struct che individua la struttura, poi il nome della struttura e all'interno tra parentesi graffa aperta e parentesi graffa chiusa ci trovate l'elenco dei dati che fanno parte di questa struttura. Allora, guardate questo esempio qui, abbiamo char in questa struttura cd, abbiamo char titolo di 30, char artista di 25, int rum canzoni, flotto prezzo, char data acquisto di 8. Allora, capite che qui dentro, dentro quest'unica struttura c'è un array di 30 caratteri, c'è un array di 25 caratteri, c'è una variabile tipo intero, una variabile tipo reale e un'altra variabile di 8 caratteri, quindi quando io dichiaro una struttura di questo tipo, sto dicendo al compilatore, guarda, ritengo che tutte queste informazioni siano legate tra loro, in pratica nel caso del cd, qua ci mettiamo il titolo del cd, il nome dell'artista, il numero delle canzoni contenute, il prezzo e la data di acquisto. Ora, è chiaro che tutti questi dati sono tra loro di tipo eterogeneo, perché ci sono string di caratteri, un intero, un numero reale e così via, ma tutte queste informazioni però si riferiscono a un unico oggetto del cd. Quindi, allora, nel linguaggio di programmazione noi possiamo tenere insieme queste cose e utilizzare un'unica struttura dati che le lega. Questa è proprio la struct. Allora, quando io dichiaro una struttura di questo tipo, il compilatore è in grado di capire immediatamente di quanto spazio ha bisogno per allogarla. In questo caso, di quanto spazio abbiamo bisogno? Di 30 byte qui, 25 byte e siamo a 55. Poi ci servono altri 4 byte per il tipo intero e siamo a 59. Altri 4 byte per la variabile di tipo fruit e siamo a 63. altri 8 byte per la variabile di caratteri e quindi stiamo a 61 elementi. Allora, una volta che abbiamo chiarito questo, abbiamo detto al compilatore, guarda, esiste un altro tipo che è il tipo cd. Quindi, fatto questo, quando io gli dichiaro questa cosa, il compilatore ha riservato spazio in memoria. Quando scrivo questo, viene allocato spazio in memoria? Ragazzi, ovviamente no. Vi sto solo dicendo, guarda che, mentre per i tipi elementari tu sai come sono fatti, il tipo intero ha 4 caratteri, il tipo reale, il tipo float ce n'ha 4, il tipo double ce n'ha 8 e sono tipi predefiniti nel linguaggio. In questo momento io ti sto dicendo, guarda, insieme agli altri tipi che tu già conosci, aggiungici il tipo cd che è fatto in questa maniera. Ma fino a questo momento non abbiamo ancora allocato niente. Nel momento in cui vado a dichiarare cd, cd1, cd2, cd3, in questo istante di tempo il combinatore alloca spazi in memoria e che cosa fa? Sempre lo stesso discorso, va in tabella dei simboli, aggiunge una variabile che si chiama cd1, dice che è di tipo cd, va in memoria e trova un blocco di 61 byte, nel conto che abbiamo fatto prima, per allocare quella variabile. In tabella dei simboli mette l'indirizzo dove comincia questo blocco di 61 elementi. Quindi questa si chiama definizione. Definire significa andare in memoria, riservare spazio, aggiungere un simbolo nella tabella dei simboli. Dichiarare significa semplicemente dire al compilatore, guarda questa struttura è fatta così. Oppure dichiarare significa, guarda voglio usare una variabile esterna che si chiama x, che da qualche altra parte qualcuno ha già allocato in memoria. Quindi ricordatevi, definire significa andare in memoria, riservare spazio, associare una variabile a questo spazio. Dichiarare significa semplicemente enunciare che un tipo di informazione si trova da qualche altra parte. Quindi noi possiamo anche fare le due cose insieme. Qua dichiariamo la struttura e allocchiamo direttamente spazio. Oppure qui ci mettiamo il punto e virgola e poi dichiariamo la struttura fatta così. Ragazzi tipicamente le struttura si mettono dove? Le dichiarazioni si mettono nel leader file, perché sono insieme per esempio alle costanti simboliche, le mettiamo nel leader file in modo che quando le includiamo abbiamo direttamente la dichiarazione, la definizione delle variabili corrispondenti a questo tipo. E' chiaro che se io una dichiarazione di struttura non la metto nel leader file, la devo ripetere in tutti i file nei quali mi serve di utilizzarla. Il compilatore quando scrivo questo, se non ha visto questa dichiarazione qua, mi dice errore, cd, non so che roba è. Quindi prima la devo dichiarare e poi posso definire una variabile di quel tipo. Ecco perché queste dichiarazioni vengono tipicamente messe negli leader file. Come faccio a dare un valore iniziale ad una struct? Ragazzi questa è proprio la stessa cosa degli array. Non posso accedere direttamente a una struct dicendo cd uguale 0, perché non saprei questo valore dove andiamo a mettere. Allora così come per gli array, anche per le struct io posso usare l'operatore parentesi graffa e qui ci metto l'elenco dei valori che voglio utilizzare. Per esempio questa struct data ha int mese, int giorno, int anno. Allora io posso dichiarare una variabile di questo tipo e dare direttamente i valori. 1, 6, 1982. In questo caso così come per i vettori quando mettevo da parentesi graffa il primo elemento andava al primo, il secondo e così via. Qui il primo valore va al primo campo, il secondo valore al secondo campo e così via. In termini di linguaggio C++, le struct sono fatte di cambi, mentre nel caso dei vettori gli array sono fatti di elementi. Allora in questo caso sto dicendo il primo valore viene assegnato al primo campo della struct, il secondo al secondo campo e così via. Posso anche fare CD1 uguale dalla parentesi graffa e metto gli elementi. A differenza dei vettori però per le strutture posso anche scrivere CD1 uguale CD2. Perché secondo voi lo posso fare per le strutture ma non lo posso fare per i vettori? Qual è la differenza sostanziale? Allora questo è un punto che mi dovete capire proprio bene ragazzi. Allora nel caso dei vettori quando io dico int A di 10 abbiamo detto che la variabile A è di tipo vettore di 10 interi la metti in memoria all'indirizzo 1000. Allora abbiamo detto che il nome del vettore è una variabile che è associata, che contiene al suo interno non un valore ma l'indirizzo di memoria dove comincia. Allora se io avessi due vettori anche identici che senso avrebbe dire A uguale B? è come se stessi dicendo guarda il vettore B che anche lui è un vettore di 10 interi e si trova all'indirizzo 2000 è come se dicessi copia 2000 in A. Ma non avrebbe nessun senso perché in questa maniera non sto copiando i valori ma sto semplicemente perdendo la posizione di memoria dove comincia il vettore A. Se il vettore A comincia all'indirizzo 1000 e il vettore B comincia all'indirizzo 2000, se io copio questo indirizzo in B sto semplicemente distruggendo il mio dato cioè sto perdendo il fatto che qua da 1000 e poi ci sono gli elementi dell'arrei A. Quindi questa cosa nel caso dei vettori non ha proprio senso, questa istruzione dovrebbe avere il significato copia ciascuno degli elementi che stanno nel vettore B nel vettore A cioè vorrebbe dire A di 0 uguale B di 0, A di 1 uguale B di 1 e così via ma dato che i nomi dei vettori sono delle variabili associate all'indirizzo di memoria dove c'è il dato e non contengono proprio il dato questa operazione non avrebbe senso. Ma perché invece si può fare nel caso delle struct? Proviamo a vedere quando io metto in memoria una struct tipo cd allora qua, ragazzi, queste voci vengono anche in registrazione, non si capisce bene, abbassate un pochino la voce Quando metto la variabile cd1 in memoria, la chiamo cd1, dico che è una struct tipo cd, la metto in memoria per esempio all'indirizzo 3000 allora la variabile cd1 che cos'è? è una variabile che non è che contiene l'indirizzo 3000, è la variabile che comincia in memoria all'indirizzo 3000 e com'è fatta? è una variabile che a questo indirizzo di memoria contiene una quantità di byte relativi alla struttura del cd quindi quando scrivo cd1 uguale cd2 esattamente come quando dico x uguale y il combinatore che fa? va in memoria all'indirizzo della variabile cd2, prendi una quantità di byte pari alla dimensione del dato cd2 e va lì a copiare tutti questi byte in memoria all'indirizzo che corrisponde alla variabile cd1 ragazzi ho fatto la stessa cosa che farei scrivendo int x int y e poi scrivendo x uguale y perché queste variabili di tipo struct il nome della variabile è che cosa? ha il doppio significato, la variabile cd1 se si trova a destra di assegnazione rappresenta il dato contenuto in quella variabile se sta a sinistra è l'indirizzo dove si trova il dato nel caso del vettore la variabile che cos'è? è una variabile che è associata non al valore ma contiene al suo interno è come se fosse una variabile che si trova in memoria un certo indirizzo e al suo interno non contiene il dato ma contiene l'indirizzo di memoria dove comincia il blocco di byte associato a quell'array quindi nel caso dell'array l'assegnazione è completamente priva di senso nel caso del struct invece è corretta ovviamente io posso associare, posso mettere in assegnazione solo struct che sono uguale se io ho una struct tipo questa data e una struct cd posso scrivere che posso associare queste due struct se lo facessi che rischio correrei? se volessi fare questa assurdità qual'è il rischio che correrei? allora se mi fosse consentito questa cosa io dovrei prendere per esempio i byte che corrispondono alla data e li dovrei andare a copiare pari pari nei byte che corrispondono alla struttura cd quindi qual'è l'assurdità che avrei? è che supponendo che gli interi occupino 4 byte questi primi 4 byte qua verrebbero associati alla prima informazione relativa alla struttura cd cioè a questa stringa di caratteri quindi prenderei i byte che rappresentano il numero intero in quell'altra struttura e li andrei a interpretare come caratteri associati a questa stringa qua e poi tutto il resto da parte di questi byte perché questa occupa più spazio dell'altra verrebbero persi viceversa se facessi il contrario sarebbe come dire prendo, associare, copiare una struttura cd nella struttura data significherebbe prendere i primi 4 byte che fanno parte della stringa titolo interpretarli come numero intero e andarli a mettere nella struttura andarli a mettere nel campo giorno della struttura data quindi quello che si ottiene è una cosa totalmente piva di senso ragazzi il linguaggio purtroppo vi permette anche di fare delle forzature di questo tipo cioè di andare in memoria a un certo indirizzo prendere dei byte e copiarli in memoria a partire da un altro indirizzo l'effetto però è sempre disastroso se io sto copiando dei byte che hanno un significato in un'altra parte di memoria dove quei byte hanno un significato diverso quello che ottengo sono dei risultati privi di senso quindi fate attenzione quando fate queste cose ma nel caso della struttura fortunatamente questo non ci è consentito perché è come quando io provo ad associare a una variabile tipo carattere un dato di tipo reale il compilatore mi dice che stai facendo una cosa sbagliata perché questi sono due tipi di dati che non sono compatibili tra di loro se provo ad associare un numero reale a un valore intero il compilatore al più mi dice guarda perderai delle informazioni perché tutta la parte decimale la perdi però sono ancora variabili numeri e me lo consente ma se provo ad associare un numero reale a un carattere mi dice chiaramente questa cosa non si può fare e alla stessa maniera mi dice che ha sbagliato se assegno a una struttura un'altra struttura che è di tipo diverso detto questo come si accede ai campi della strutt? ai campi della strutt si accede con l'operatore punto quindi se io voglio prendere della strutt cd1 il campo prezzo io dico cd1.prezzo uguale questa roba qua cd1.num canzoni uguale 7 e così via quindi mentre per i vettori si utilizza l'indice per le strutture si utilizza l'operatore punto le strutture possono a loro volta essere agitate e notate questa struct info questa struct info ha un campo nome un campo indirizzo, un campo città, un campo provincia e così via ma questo campo nome è un array di caratteri allora se io definisco così ho definito una variabile i che è di tipo info cioè una struttura fatta in questo modo dentro questa struttura ci sono questi campi allora se io scrivo x.nome sto prendendo il campo nome della struttura info ma questo campo nome è a sua volta un array se io voglio prendere il terzo carattere di questo array io scriverò x.nome quindi poiché questo è un array utilizzo tutte le notazioni degli array cioè l'operatore parentesi e gli indici che mi dicono gli elementi di questo array ma poiché l'array è un campo della struct per accedere a questo campo uso l'operatore punto applicato alla variabile questo significa della struttura x prendi il campo nome e del campo nome prendimi il terzo carattere le strutture possono essere alla loro volta annidate la struttura impiegato al suo interno ha una struct info anagrafica e un double salario quindi questa struttura ha al suo interno definito una struttura quindi io qua potrei dire se definisco una variabile a che è di tipo impiegato dicendo a punto anagrafica sto accedendo a questo campo qua a punto anagrafica punto indirizzo sto accedendo al campo indirizzo a punto anagrafica punto indirizzo di lì sto accedendo all'iesimo campo dell'array indirizzo che fa parte della struttura info che fa parte della struttura impiegato e così via ragazzi è chiaro? quindi si fa un po' la notazione diventa un po' più pesante perché ogni volta che una struttura è annidata per accedere a un campo di una struttura annidata devo usare due volte l'operatore punto quindi se ho definito a una struttura impiegato a punto anagrafica punto città mi dice che sto prendendo il campo anagrafica e di questo campo sto prendendo il campo città e così via quindi evitate di fare strutture troppo annidate perché poi la notazione diventa molto pesante se fate strutture annidate, strutture annidate array dentro queste strutture annidate prima di arrivare all'elemento di questa array dovete mettere tutta la catena di strutture che vi porta dalla variabile fino all'ultimo campo che state considerando per esempio qua se voglio introdurre il nome dell'impiegato dirò cin x punto anagrafica punto nome poiché nome è una stringa quello che inserisco viene messo in questa struttura trasformando il carattere carriage return che invio per terminare l'immissione della stringa nel carattere slash 0 che rappresenta il tappo della stringa che sto inserendo ricordate quando abbiamo visto ieri queste cose abbiamo visto che quando uso l'operatore cin se qui c'è un array di caratteri per l'operatore cin l'array di carattere è una stringa i caratteri che inserisco vengono automaticamente terminati con il carattere slash 0 che rappresenta il tappo abbiamo visto l'esempio che vi ho fatto vedere ieri magari a fine lezione ce lo vediamo di nuovo per ribadire questo concetto ovviamente io posso anche fare gli array di strutture cioè è anche vero il contrario se io ho per esempio un archivio di cd allora io posso definirmi un array di cd come si fa? è sempre alla stessa maniera così come scrivendo int a di 10 sto definendo un array di 10 elementi di tipo intero in questo caso sto definendo un array di 100 elementi di tipo cd quindi ogni elemento è fatto in questa maniera allora quando io scrivo archivio di i sto prendendo il generico diesimo elemento di questo archivio poiché questo è una struttura di tipo cd se io scrivo archivio di punto titolo sto prendendo il campo titolo del diesimo elemento di questo archivio ma dato che questo campo è a sua volta un array io posso scrivere ancora parentesi j questo significa sto prendendo il jesimo carattere del campo titolo che è un campo del diesimo elemento dell'archivio che è una struttura e quindi abbiamo la posizione duale mentre noi abbiamo visto che una struttura può contenere un array ma a sua volta una struttura può essere incluse in un array archivio di rappresenta diesima struttura con l'operatore punto mi prendo il campo titolo con l'operatore parentesi quadra mi prendo il jesimo elemento e così via quindi fate attenzione perché le notazioni diventano complesse ma questa parte è molto utile e degli array di strutture ne faremo largo uso perché quando io voglio memorizzare delle informazioni no, supponete che ho bisogno di estrarre per esempio da una linea di produzione voglio tirar fuori delle informazioni supponete che a me interessa ogni tot intervallo di tempo andare a conservare delle informazioni su come sta andando la produzione su questa linea una cosa che si fa spesso quando mi sono occupato di automazione industriale ad un manufatto veniva associato un cartellino di qualità che teneva conto delle misure fatte durante la produzione di questo manufatto a certi intervalli di tempo allora supponete che io voglio memorizzare per esempio i valori di un insieme di parametri che mi misurano la qualità di questo prodotto su una certa linea allora io lo sto producendo e nel produrre questo, questo manufatto c'è una catena di operazioni che vanno effettuate ogni tot istante di tempo leggo le misure dei parametri che voglio memorizzare ho tutti questi dati dove li metto? supponete che ho le misure di tre sensori allora mi faccio una struct che tiene al suo interno tre valori i valori di questi sensori ma io ho terne di misure fatte ogni tot istante di tempo allora mi conviene definire un array di queste strutture a ogni istante di tempo prendo queste tre misure e le metto nella struct che è un elemento dell'array e aggiungo via via gli elementi che mi vengono forniti dalla linea ragazzi è un po' come dire se io faccio un ciclo nel quale rilevo i dati da una linea abbiamo visto che questi dati mi conviene metterli in un array quindi ho un array che mi rappresenta queste misure se ho una misura singola allora ho un solo array che mi tiene questo ma se io voglio associare più informazioni voglio memorizzare per esempio per ogni misura che faccio la data e in quella data l'ora espressa in temi di minuti e secondi e poi ho la misura allora per ogni misura non c'è più un solo numeretto ma come faccio a mettere un array e collegarli insieme? e allora i modi sono due immaginate che questa è la linea di produzione ogni tot istante di tempo tiro fuori un valore passa il tempo un altro valore, passa il tempo un altro valore e poi c'è un sistema che deve fare il controllo di qualità allora leggo un valore e ve lo posso memorizzare in un array quindi per esempio se ho un valore singolo che è un numero reale allora definisco un array in memoria sapendo che mi arriveranno nel corso di questa produzione a più mille valori mi faccio un array di mille elementi quando arriva il primo valore lo metto qui dentro e incremento il riempimento arrivo un altro valore lo metto qui dentro e incremento il riempimento mi arrivo un altro lo metto qui dentro e incremento il riempimento e così via alla fine ho tutti i valori memorizzati essendo questo un array posso partire dal primo elemento fino all'ultimo ne faccio media, deviazione standard rielabbono questi valori come voglio ma se per ogni misura io voglio tenere anche per esempio informazione dell'istante di tempo in cui ho preso questa misura dicendo che l'istante di tempo è t0 quando comincia la produzione io voglio conservare l'istante di tempo in cui ho preso questo valore e per ogni istante di tempo voglio memorizzare minuti e secondi sono altri due numeri allora ma questo non è più un numeretto solo ma c'è il valore che è un numero reale poi ci stanno minuti e secondi che sono due numeri interi poi ho tre numeretti per ogni valore che prendo dove li conservo? beh allora o faccio tre array due di interi e uno di numeri reali allora nella prima posizione 0 ci metto minuto, secondo e valore del numero mi arriva un altro metto nuovo minuto, nuovo secondo, nuovo valore e così via devo fare attenzione che quando ho tre array queste informazioni sono legate le une alle altre allora devo sempre prestare attenzione di accedere a queste tre informazioni con lo stesso valore dell'indice prendo il valore 3 e prendo minuti di 3, secondi di 3, valore di 3 perché questi tre valori sono correlati tra loro ovviamente se per esempio sbaglio perché uso un indice qua e un indice sugli altri vettori sto legando insieme informazioni che non c'entrano niente sto prendendo i minuti e il secondo di questo valore qua ma prendo il valore che si trova alla misura successiva quindi questo non è un buon modo di fare un programma robusto molto meglio che io mi definisco una struct struct elem e dentro ci metto int min int sec int val e mi faccio un array di queste strutture quando arriva il primo elemento allora qui dentro ci metto minuti, secondi e valore di questa misura qua e incremento l'indice dell'array arriva quest'altra misura minuti, secondi e valore di quest'altra misura e così via allora sto conservando aggregati di informazioni chiaramente in un array quindi per molti degli esempi che vedremo in questo corso useremo array di strutture perché ci permettono di legare insieme terne di valori associati allo stesso evento questo è un evento, questo è un evento, questo è un evento tutto quello che faccio in relazione a questo evento lo metto insieme in un'unica struttura quindi queste cose le useremo largamente nel corso nel linguaggio C++ è stato definita un altro tipo di struttura che si chiama union, le unioni allora questa struttura non ha nulla di concettualmente diverso dalle strutture che abbiamo visto prima l'unica differenza è che se io ho dei tipi di strutture diverse che contengono informazioni di tipo leggermente diverso cioè ci hanno alcuni campi tutte quante uguali e poi alcune ci hanno delle informazioni aggiuntive e altre non ce l'hanno allora sarebbe un po' come dire io ho questa struttura facciamo il caso di avere due strutture che hanno lo stesso numero di informazioni ma una struttura ha qualche informazione in più allora potrei tranquillamente definirmi due strutture queste che hanno per esempio tutti gli stessi campi qua e questa che ha qualche informazione in più allora mi definisco una struttura 1 e una struttura 2 però se quando sto acquisendo queste informazioni alcune possono essere sempre presenti altre possono anche essere diverse e io mi trovo a dover definire due cose completamente distinte l'una dalle altre immaginate che su certi eventi che vado a registrare per ogni evento ho sempre delle informazioni però ho delle informazioni aggiuntive che mi vengono date per esempio ogni 7, 8, 10 intervalli di tempo allora a ogni intervallo di tempo faccio delle misure ma ogni 100 misure aggiungo per esempio delle informazioni in più allora in questi casi che mi conviene fare? mi dovrei definire un array destruct per conservare queste informazioni che sono uguali per tutti e poi un altro array dove ci metto giusto quelle informazioni che ogni tot intervallo di tempo ricevo in più allora dovrei duplicare questa roba nel linguaggio C++ c'è la possibilità di definire un'unica struttura che si chiama union più grande e associare a questa union più strutture di tipo diverso però la cosa importante è che condividano almeno lo stesso numero di dati elementari allora quando io copio questa struttura qua dentro questi dati sono gli stessi e questi mi rimangono inutilizzati quando mi arriva il campo che ha più cose lo copio qui dentro allora riempio tutti i campi di questa union quindi di fatto la union se io ho più campi di tipo diverso mi definisco la union mettendo in questa struttura la dimensione massima che i dati possono avere dopodichè ci carico di volta in volta quelli che arrivano che sono una parte di questi campi quindi la cosa per me essenziale è che quando definisco la union vado a guardare tutti i tipi di struttura che posso avere mi faccio la union mettendo il numero massimo di byte che queste informazioni possono avere dopodichè ci posso caricare di volta in volta informazioni più piccole così come arrivano quindi la union non ha nessun aspetto concettuale rilevante rispetto alle struttura ma servono solo per risparmiare memoria questo è l'unico motivo, è solo un motivo di efficienza ma non hanno nessuna motivazione di tipo concettuale l'altra struttura che viene molto usata nel linguaggio C++ è la struttura cosiddetta per enumerazione allora cerchiamo di capire a che cosa serve è un tipo definito dall'utente costituito da un insieme di costanti allora quando io dico enumma, enumeratore 1, enumeratore 2, enumeratore n oppure posso definirle in questa maniera oppure lo posso mettere come campo di lo struttura quindi faccio enumma, nome, enumeratore 1 uguale espressione enumeratore n uguale espressione costante n allora facciamo il caso del semasolo io sto dicendo enumma, rosso, verde, azzurro questo è equivalente a dire const int rosso uguale 0 const int verde uguale 1 const int azzurro uguale 2 perché lo metto così? perché se voglio definirmi il tipo semasolo che ha come valori rosso, giallo e verde ma rosso, giallo e verde non sono dei valori che posso mettere nel calcolatore allora questo nuovo tipo che mi sto definendo io semaforo ha il valore rosso, ma rosso che cos'è? non è un valore che posso mettere allora devo fare io una codifica devo dire guarda per me rosso equivale a 0 se il semaforo assume tre valori posso immaginare rosso è 0 giallo è 1, verde è 2 allora quando io dichiaro il tipo per enumerazione sto semplicemente dicendo enum, rosso, verde, azzurro da questo momento in poi per il mio sistema rosso è diventato un nuovo valore all'interno del mio linguaggio e quindi io posso dire if semaforo uguale uguale rosso lo scrivo nel linguaggio C++ ovviamente poi quando il compilatore traduce il linguaggio macchina poiché rosso non lo può mettere dentro un registro viene fatta la convenzione che tutto quello che compare nel campo enumerazione viene associato a valori numerici crescenti a partire da 0 allora quando io scrivo enum, rosso, verde, azzurro sto dicendo al mio compilatore guarda, da questo momento in poi io userò delle stelle costanti che chiamo rosso, verde, azzurro associate a una variabile di quel tipo e quindi io sarà lecito scrivere if semaforo uguale uguale rosso allora fai una certa cosa altrimenti fanno un'altra il compilatore all'atto della traduzione implicitamente associa a quella variabile il valore numerico 0 a questo il valore numerico 1 a questo il valore numerico 2 e così via quindi tutto questo mi permette di fare in maniera molto semplice quello che sta scritto qua è vero che io possa anche scrivere direttamente così però questo devo farlo io in questa maniera e poi ovviamente quando ho fatto questa operazione se scrivo così che cosa succede? che rosso sarà una variabile definita const quindi una volta che gli ho dato questo valore iniziale non può essere modificato più quindi qua è come se stessi definendo delle variabili se vi ricordate ragazzi quando abbiamo introdotto il qualificatore const che cosa abbiamo detto? quando il compilatore vede questa roba qui capisce che il rosso è una variabile quindi va in memoria riserva spazio per questa variabile che chiama rosso quindi in tabella dei simboli scriverà rosso int vado in memoria e riservo spazio per questa variabile metto in questa variabile il valore 0 ma poiché qua ho scritto cost qual è l'unica cosa che farà il mio compilatore? se per caso da qualche altra parte del programma io provo a modificare il valore di questa variabile allora lui mi da errore e non mi fa completare la compilazione quindi questa è una variabile a tutti gli effetti però l'unica cosa che fa il compilatore se c'è la parolina chiave const è che se io mi permetto di modificarla lui mi da un messaggio di errore e non mi fa andare avanti la compilazione quindi è come se il compilatore facesse un controllo del conto mio impedendomi di andare a modificare il valore di una variabile che io ho dichiarato const nel linguaggio C++ io posso anche fare un'altra cosa allora cancelletto define è una di quelle definizioni che vanno messe nella parte iniziale del codice dove metto le direttive cancelletto include posso mettere anche la direttiva cancelletto define allora il compilatore che cosa fa quando ci troviamo di fronte a questa situazione? vedete? tutte queste istruzioni che cominciano con il carattere cancelletto vengono trattate dal compilatore in maniera diversa in pratica il compilatore C++ è fatto da due parti c'è un compilatore ve ne proprio e c'è un pre compilatore il pre compilatore quando trova questa istruzione lo sapete che cosa fa? va semplicemente a esaminare tutto il nostro programma dovunque trova la stringa rosso la sostituisce con la stringa 0 quindi se io ho scritto if semaforo uguale uguale rosso lui sostituirà questa stringa if semaforo uguale 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 0 quindi in questa istruzione non si riserva spazio in memoria non si associano variabili non si fa niente dovunque c'è la stringa rosso viene sostituito con la stringa 0 viceversa quello che sta scritto qua è una cosa diversa qui rosso è una variabile che sta in memoria riservo spazio ci scrivo il valore 0 ma il compilatore verifica solo che io non la modifico perché ci sta scritto const allora voi potete utilizzare o questa definizione qui per indicare delle costanti numeriche ho questa definizione qua questa definizione è più usata quando per esempio a me occorre utilizzare questa come una vera e propria variabile quindi poter riprendere quel valore più volte mai modificarlo perché questa è una costante però utilizzare questa come una vera e propria variabile qui invece questa è proprio la classica costante simbolica dovunque nel testo compare questa roba qui io ci scrivo il valore 0 io potrei scrivere cancelletto define pi greco 3,14 allora dovunque nel testo compare la scritta pi greco questa stringa viene sostituita con la stringa 3,14 non è una variabile è una sostituzione proprio di una stringa il compilatore vero e proprio troverà un altro testo nel quale non c'è più pi greco ma c'è scritto questa istruzione qui quindi ricordatevi avete due modalità il tipo per numerazione mi permette di fare implicitamente questa cosa definendo una sequenza di costanti simboliche alle quali sono associate dei valori numerici ricordatevi che la regola è che i valori numerici vengono associati in maniera crescente partendo da 0 e in base alla posizione che queste costanti hanno nell'enunciato enum allora ragazzi riassumendo abbiamo visto che abbiamo due possibilità di aggregare informazioni di tipo eterogeneo la prima possibilità è quella legata all'uso degli array che permettono di aggregare informazioni tutte dello stesso tipo poi abbiamo le struct che permettono invece di aggregare informazioni di tipo eterogeneo abbiamo visto che è possibile dentro una struct annidare altre strutture ma dentro una struct posso annidare anche dei campi che rappresentano degli array e abbiamo visto che è vero anche il contrario io posso mettere in un array delle struct quindi aggregare come tipo omogeneo una struct quindi fare un array di struct significa definisco un insieme di elementi tutti uguali tra di loro che sono struct cioè una struttura dati che contiene al suo interno elementi di tipo eterogeneo allora ora ci fermiamo qualche minuto dopodichè voglio farvi cominciare a vedere delle applicazioni legate all'uso dei vettori quindi cominciamo a metterci un po' in mano e dalla settimana prossima cominciamo a lavorare in maniera più prestante sulla parte esercitativa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti